Musica Bella ragazzi, qua Xeroid Eccoci tornati in questo nuovissimo video Oggi come potete vedere siamo tornati su Terra Restore Prima di fare la intro però vedo che c'è uno scheletro là e io ho paura Quindi facciamo così Ok, no, l'altra è mancata Comunque, ragazzi, sono tornato su Terra Restore Non mi ricordo cosa stavamo facendo nell'ultimo episodio perché non ci gioco da un bel po' Sono solo andato a prendere le torce e siamo tornati qua dove eravamo E quindi adesso andiamo avanti Allora Vedo che qua ci sono dei carrelli Ok, allora Intersezione 1 Next Area Qua ci sono dei minecart Vorrei vedere che cosa c'è nell'intersezione 1 Però ho paura di creeper Tipo tu muori E tu muori Non è morto Piccolo ragno maledetto No, fermola Allora Proviamo ad andare un attimo all'intersezione 1 Giusto per vedere un attimo Dove ci porta Allora Facciamo tutto il tragitto Sì, va bene Un po' di qua Un po' di là Un po' di su Un po' di giù Dove ci sta portando? Dov'è che usciamo adesso? Ho paura di sapere dove usciamo ora Qua lagga tutto Incredibile Sta laggando tutto Oddio Sta laggando tutto Incredibile Ok Sembra essersi ripreso Oddio un creeper Oddio no, no, no Non ci devono essere i creeper Ok Questo Questa bella gita in miniera Mi è piaciuta Qua lagga Ancora tutto Ok Oh, perché prende fuoco? Perché prende fuoco? Ho paura a fare così Ahaha Sapevo che Non dovevo farlo Ok Sembra che ho tolto Tutto la TNT E dove siamo? Oh, grande Ok Siamo arrivati qua Grandissimo Siamo tornati qui Facciamo una bella La scaletta Ok Siamo tornati qua Perfetto Siamo all'intersezione Va bene Allora Adesso L'unica cosa Dobbiamo tornare In su Quindi dobbiamo fare così Ci mi sono fatto tutta la testa Per andare a prendere le torce Quando Potevo andare Un poco poco più avanti Ok Quindi Oddio no Non osare Non osare Bravo Allora Allora Next area Io sono tentato a farla a piedi No Meglio di no Perché Se no rischio la morte Quindi ce la facciamo In carrello Allora Se morissi adesso Sarebbe un po' Un casino Perché C'ho un bel po' Di roba Quindi devo vedere Di non morire Allora Però non è che Next area Vuol dire Intersezione 3 Spero di no Perché io devo ancora Trovare la lana di questo Oddio che figata Con tutta l'acqua Che grandissima figata Guardate C'è acqua dappertutto Veramente Una cosa Fighissima Ragazzi È una figata Assurda E continua Oddio Bellissimo No Siamo arrivati All'intersezione No Siamo arrivati No Ah Fresh air At last Qua mi dà solo Una Cos'è questo Oddio Una barche No Che figata Ha vinto tutto Questo Ok Qua c'è Adventures rest I resti Dell'avventuriero Ok Qua è per mettere Lo spawn point Nelle fornaci C'è del carbone E dei biscotti Buono Questo È perché Bisogna sempre Controllare Nelle fornaci Ok Adesso Chest Ci sono dei letti Nel baule Oh venga c'è la mia roba Ok Piccone di ferro Spada di pietra E Ok Beh qua ci equipaggia Molto molto bene Devo dire Io vorrei Però non portarmi Tutto Dato che tutto Non mi serve E direi Di settare Lo spawn point Qua Per sicurezza Allora Mi da solamente Una via Da seguire Che è questa Quindi Credo Di andare Per di qua Mettiamo un po' Di torce Perché non vorrei Che mi spawnassi A qualcosa di brutto Qua Tuvula Di sotto Per favore Ok Ho la spada Con una tema Fatevi avanti Ok No Vedo anche una strega Quindi meglio Andar via Non ho preso Le pagnotte Però voglio andare A vedere Che cosa c'è là Spero che la musichetta Non si senta Tanto Qua Che cosa c'è Vetro Cosa serve Sto vetro Io ragazzi Comunque la mappa È bellissima Cioè Questa parte Tutte le cose La mappa è veramente Bellissima Merita Veramente Tanto Ci sono Dei mob Strani Non so Cosa siano Ma sono troppo belli Facciamo così Dato che abbiamo Le frecce Ma Troppato niente Maledetto Ok Ma questo è un dungeon Mi sembra Questo è un dungeon Quindi proviamo Ad andare giù Per di qua Oddio Cosa siete Cosa siete Ditemi Cosa siete Please Siete troppo belli Cosa sono Sti mob Ok Mi sa che ho fatto Oddio Oddio Ma che cos'è Perché prendo Ah Sono gli scheletri Oddio Sono gli scheletri Eh vabbè Se questo qua È un campo minato Questo è un campo minato Merda Ok Entriamo dentro Entriamo dentro Scappa Entriamo dentro Oddio Ma non c'è niente Qua C'è sul polmo C'è una cesta Aspettate C'è una cesta Ma io non mi fido Delle ceste Andiamo dritti di qua Andiamo dritti di qua Questi con la spada Mi piacciono molto Di più di quelli di prima Quelli con l'arco Sono pericolosi Questi un po' di meno Merda Oddio Oddio il creeper Oddio il creeper Ok Allora Siamo quasi salvi Ok Questi non ci devono essere Mi sa che devo prenderlo Il piccolo con efficienza Però Vabbè Allora Prima di tutto Torch Poi Andiamo su Oh mio dio No 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 Ti prego No ti prego No ti prego Non esplodere No ti prego Non esplodere Ok Ok Allora Dobbiamo andare con Eh vabbè però 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 Ti prego muori 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 Ok Dobbiamo fare una cosa molto Rapida Ok No Non esplodere Oddio 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 Ok Esploso Esploso Uno dei Quattro Esploso Ok Bene Ok Adesso ci abbiamo anche un'uscita Su Vabbè Questi scheletri Va già meglio Sì però Sempre non va bene Cioè va meglio Ma non va bene Quindi Facciamo così Ok Via uno spawner Eh che palle però No No Ok E via Un altro spawner Ok Ultimo piano sopra Altro scheletro Via da qua Ok Ok Essence of sunshine Non so Race of sunlight Mened from this C'è dell'argilia Una corazza Un ascia d'oro Cosa me ne potrei fare Io lascio tutto qua Per adesso Perché Sicuramente di questa roba Non mi importa Niente Dato che non me ne faccio niente Intanto però mettiamo torce E facciamo la via rapida Allora Dobbiamo continuare a scendere Direi Quindi continuiamo A scendere Di qua Io voglio arrivare In quella casetta Che avevo visto Prima Che non so Se avevo visto una casetta No Dubito fortemente Però vedo del grano Vedo del grano E la cosa mi piace Ok 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 Non avevo visto il buco Ok Male Molto 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 Male Non so dove sto andando Non so cosa sto facendo L'arciera non mi ha visto E quello è importante Non mi vedi Vero Oddio Lag Ok Da là dentro Escono mob Un attimo Solo che abbasso la musichetta Perché mi sta dando Abbastanza fastidio Allora Ecco Non riesco manco a saltare Perfetto Ok Ho visto della luce Qua dentro Sì La sopra c'è della luce Ok No Gli enderman Non devono essere arrabbiati con me Torce Torce dappertutto Torce dappertutto Cos'è questo spawner Di chi cos'è Di quegli mob strani Ok Allora Voi dovete morire tutti Mettiamoci davanti Gli scheletri Facciamo così Così se dovessero picchiare Ne picchiano gli zombie Ok Ok No Ragno maledetto Io odio i ragni Gli scheletri Ok Ok Sta andando bene Sta andando bene Dobbiamo solo Vedere Di non morire Ecco appunto C'è tutto questo per una chest Per una chest Stiamo rischiando Per una chest Va benissimo Ok Allora Dobbiamo uccidere un po' tutti Dobbiamo uccidere tutti Allora Spawner Di maiali Ho paura Perché se è come quell'altro Mi spawnano i creeper E non mi piacciono What the fuck Bangatissimo E anche un altro Via Noi guardiamo gli enderman E vediamo che cosa c'è C'è anche del ferro Che adesso prendo Ok Spada di ferro Mi piace Al posto di questa E le frecce Sempre Credo che Devo prenderle queste Perché Non so Anche prima le trovate Quindi credo che dovrei prenderle Proviamo a continuare Per la stradina Ok Vedo del grano Vedo del grano Dopo di cibo Qua c'è qualcosa Oddio che cos'è Che cos'è questa cosa Cos'è questa cosa Mangia panino Nessuno che mi segue Oddio ragazzi Però guardate quante figo Ok Ci sono comunque mob Ma perché ci sono mob Qua ci sono gli spawner sottoterra Per forza Ok Entriamo dentro Che cos'è questa roba Spawner di ragni Non mi piace Lo spawner di ragni Ho mutato il pulsante So con un giro Oddio Ok Questa mi piace molto Di più dell'altra Quindi questa la prendiamo Settiamo lo spawn point Per sicurezza Qua non capisco Che cosa c'è però Oddio Ma questo è un dungeon Questo è tutto un dungeon Questa è la faccia di Aerobrine Per forza Oddio Che figata Comunque ragazzi Io spero che Questo video Vi sia piaciuto Io come sempre Vi invito a lasciare Un mi piace Aspettate Quando voglio provare questa Sbam Sbam Oddio Due colpi Sbam Sbam Incredibile Comunque ragazzi Io spero che il video Vi sia piaciuto Io con Aerobrine Dietro di me Vi saluto Spero che Possete apprezzare Questa serie A me sta piacendo Veramente tanto Vi ricordo di lasciare Mi piace Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto E noi ci vediamo Un prossimo video Bella